Ha aggredito una donna che lo aveva rimproverato per non aver raccolto i bisogni del suo cane, venendo anche incitato dalla fidanzata a continuare a colpirla con calci e pugni. È quanto ricostrito dalla polizia intervenuta al nuovo parco di via Matteotti a Lucca dopo la segnalazione di una lite con alcuni passanti che avrebbero sottratto la signora al pestaggio. Quest'ultima, 43 anni, ha riportato la frattura di una costola, 25 i giorni di prognosi per il padrone del cane, che lui 43 anni e la sua fidanzata, 52enne, è scattata una denuncia per lesioni. Tutto sarebbe nato dal fatto che il 43enne in compagnia della fidanzata non avrebbe raccolto i bisogni del proprio cane, venendo ripreso dalla donna poi aggredita, la quale lo aveva invitato a pulire. L'uomo le avrebbe prima risposto che poteva pulire lei se ci teneva, poi all'ulteriore rimprovero si sarebbe scagliato contro la signora colpendola con calci e pugni, mentre la fidanzata dell'uomo lo incitava a continuare.